Ciao ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi vi preparo lo sciroppo di zucchero e lo facciamo in modo ignorante, come proprio dal nome del nostro canale. Allora, per la preparazione del sciroppo di zucchero, noi ci occupiamo lo zucchero, acqua, pentolino e cucchiaio di legno. In genere ci sono molte varianti per la preparazione dello sciroppo di zucchero. C'è chi lo fa molto liquido e chi lo fa più denso. Io vado una via di mezzo, perché a me piace un po' più tenzotto ma non troppo. Quindi andremo a utilizzare 170 grammi di zucchero e 100 grammi d'acqua. E tutto lo mettiamo in un pentolino e poi lo giriamo con un carino di legno. L'importante è non farlo bollire, perché evitiamo che lo zucchero si caramelli troppo, quindi poi lo scirocco di zucchero diventerebbe troppo amarognolo. Ci sono molte varianti, lo scirocco di zucchero, chi ci mette un po' di vanille, chi li chiodi di carofano, ma noi lo facciamo in modo semplice e ignorante, come dice il nostro canale. Ok, andiamo a preparare il tutto. Acqua Facciamo sciogliere il tutto, giriamo, si amalgama bene lo zucchero, senza portarlo ad ebollizione. Come ho detto prima, dobbiamo evitare che si caramellizzi il tutto, se no diventa troppo amarognolo. Aspettiamo che si scioglie bene un zucchero, si riscalda un po' l'acqua. Ecco qua, lo zucchero è pronto. Come vedete, il zucchero è fatto. Dobbiamo aspettare adesso che si raffritta il tutto. E poi lo mettiamo dentro un barattolino chiuso bene, diciamo, lo mettiamo in frigo e lo utilizziamo in base alle nostre esigenze. Per ora è tutto ragazzi, vi aspettiamo al prossimo video e per questa sera lenticchie.